Bentornati sul canale video canotta tre quarti per parlare della giornata calcistica che ha visto le sconfitte di Atalanta e Roma, le vittorie di Monza e Milan. Soprattutto parleremo delle partite del Milan e della Roma che sono quelle in serata e sono quelle che ci daranno un po' più da discutere secondo me anche a livello di competitor in chiave Inter. Nel frattempo l'Inter è sempre più in attesa di Pavard, sembra sia arrivato il momento decisivo che dovrebbe essere lunedì, quindi per lunedì ha atteso Pavard a Milano, quando l'Inter invece sarà impegnata nella trasferta di Cagliari contro i padroni di casa rosso-blu. E anche oggi, la notizia è che anche oggi Pavard non si è allenato, dopo che non si era allenato nemmeno ieri, dopo che non si era allenato nemmeno tre giorni fa, quindi segnale chiaro ed evidente, domani il Bayern scendereà in campo contro l'Augsburg e vedremo insomma la gestione di Tuchel da parte di Pavard. A questo punto penso che dopo le ultime due sedute senza essersi allenato, credo che non sarà nemmeno nella lista dei convocati, ma vediamo perché insomma è sempre giusto aspettare. Nel frattempo veniamo alle partite di questa sera e non si può non partire dalla Moviola, ne sono successi un po' di tutti i colori e diciamo che gli arbitri non sono partiti benissimo in questa stagione, già diverse polemiche, ma quelle ci stanno sempre. Il problema è che sono polemiche fondate, perché finché sono polemiche sterili o polemiche nate perché bisogna per forza dare fiata alla bocca, e allora siamo in Italia e quelle ci saranno sempre, è impossibile andare contro quelle polemiche lì. Poi ci sono le polemiche corrette, in che senso polemiche? Che si critica l'operato dell'arbitro. Oggi tra Doveri e Mariani ne sono state combinate diverse. Io ho visto la Roma, ho visto la partita della Roma al Bentecodi contro l'Ellas, 2-1 il finale per i padroni di casa. Nel frattempo chiaramente mi aggiornavo sul risultato del Milan. Io ho una chat con mio fratello e altri due cari amici, nel quale commentiamo calcio ormai da quasi dieci anni, a tutti i livelli. Anzi, ben prima delle varie finestre che conosciamo, che sono moltiplicate con il Covid, ben prima della BoboTV, abbiamo pensato noi quattro, quello che facciamo sulla chat Whatsapp, di riproporlo anche su un canale YouTube. Poi per un motivo o per l'altro, per impegni eccetera eccetera, ognuno ai suoi tempi, non siamo mai riusciti a incastrarci e ci hanno fregato l'idea praticamente. Avevamo avuto la giusta idea, ma non siamo stati così lesti e capaci da metterla in piedi. Sarebbe stato, ma perché? Perché è soprattutto divertente. Allora vi faccio un breve riassunto di quello che è successo stasera. Io vedevo la Roma, nel frattempo arrivano i messaggi. 21 e 21 e mi appare uno Schurz alla Fanningster Roy. E era praticamente l'occasione dell'1 a 1. La idea è che anche lui è bello comunque. Passano... Qualcosa che mi sabota. Passano due minuti e mi appare un messaggio. Pronti a un rigore ridicolo a San Siro. Per chi indovina, faccina, altra faccia. E i commenti sono esilaranti. Nel frattempo, maleditano... Era un baffo. L'ha guardato mezz'ora al VAR e l'ha dato. Giroud, scritto con la J, si abbassa improvvisamente e la valla sbatte sulle braccia di Buongiorno. Una roba imbarazzante. E nel frattempo, collegati all'altra partita, un altro amico che stava guardando appunto, perché eravamo in tre sulla Roma e uno solo, poverino, stava guardando il Milan. L'altro che stava guardando la Roma, doveri che sogna i rigori solo due minuti dopo. Perché? Perché nel frattempo era stato, dai, il rigore al Milan con Giroud che la spizza a 10 centimetri da da Buongiorno che marcandolo aveva le mani protese in avanti e la palla passando gli picchia sul braccio. ma era proprio all'interno della figura palla inaspettata, palla ravvicinata, c'erano tutti i condimenti per non dare rigore. Valeri richiama al VAR, Mariani segna il rigore. E vabbè, nel frattempo di là al Bentegodi tocco de panza di Ongla e doveri vede il tocco di braccio. Un po' l'illusione dal movimento. Qui per fortuna il VAR toglie il calcio. La dirigolava ancora più indietro che c'era un fuorigioco precedente di Dybala. Ma comunque non sarebbe stato calciorico perché la palla tocca il ventre di Ongla. E allora, vabbè, sempre in chat. Vabbè, diciamo che ha preso tempo. Dai, ha fermato il gioco sorridendo. Eh sì. Inizia il secondo tempo. Siamo... E arrivano ancora nel periodo... Durante, diciamo, l'intervallo qualche conciliabolo. Inizia il secondo tempo. Alle 22.14 arriva una nuova... Una ulteriore novità da San Siro. Siamo al secondo rigore fuori dal mondo. Ottima seratina. Il secondo rigore è proprio un insulto allo sport. Il primo al buon costume. Ma davvero, chi è arbitro? Mariani. Roba da non credere. E si è andato avanti così, insomma, per tutto... Per tutto... Per tutta la serata. E poi, da come mi è stato raccontato, insomma, il Milan comunque ha affrontato il Torino ancora in fase non proprio settato, come poi ha confermato anche Juric nel post-gara. Il Milan ha giocato da par suo, ha messo la qualità che c'era davanti, ha sbloccato il risultato con una bellissima azione con un gol di Pulisic. rifinita da Loftusic. Però poi il Torino ha trovato il pari con Schurz. E il 2-1 che rimette l'inerzia dalla parte del Milan è quel rigore di buongiorno. Poi arriva, dopo pochi minuti, nel recupero del primo tempo il 3-1 che di fatto vede il match. E poi il quarto gol ancora sul rigore Farlock. E questi li uniamo, magari, altre decisioni avvenute anche in altri campi, come ad esempio poi per fortuna il VAR ci ha messo rimedio, ma in Verona-Roma o nella prima giornata il rigore è concesso alla Juventus e lì si era sull'1-0. Arriva il 2-0 a fine primo tempo, poi addirittura pure il terzo. Chiaro che sono snodi cruciali. E meno male che Rocchi aveva parlato di ma basta rigorini, non diamo più rigorini. Cioè, il secondo anche dato al Milan con Leao che va sul fondo, doppio passo, mette il cross, scivola, sta per cadere, impatta con il piede di Schurz che nella dinamica gli finisce sopra, ma non è che è un pesto... Leao già stava uscendo dal campo scivolando da solo. Ragazzi, vediamo questi... è un po' come quello dato alla Lazio quando non ricordo chi calpestò con Rea da dietro, una roba indicibile. Però, se a inizio anno quello era contro il Milan, però se a inizio anno mi si dice il capo degli arbitri davanti a rete unificate, basta rigorini, il rigore è una cosa seria, parapà, 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 dopo due giornate visto il rigore dato alla Juve, i due dati stasera al Milan, mettiamoci d'accordo su cosa significhi cosa seria, perché per me seria è una roba, cioè, in Inter Monza quando Turam cerca il sombrero a Gagliardini che gli è davanti, Gagliardini apre le braccia, la palla è proprio braccia larghe, la palla gli si picchia sul braccio, a parte Turam che fa un po' così, ma nessuno si è messo lì a chiedere rigore e eravamo sull'1-0, quindi partite in bilico, nessuno ha preteso il rigore, nessun richiama il bar, ma giusto così, ma giusto così, però allora dico, o si danno tutti questi rigori, i rigorini, si fa tutti lo stesso campionato, poi non c'entra nulla con il risultato finale, qui si analizza l'episodio, poi, la somma degli episodi, ma questo non vuol dire che magari il Milan senza il 2-1 sul rigore, poi alla fine avrebbe vinto 6-1, non sto dicendo questo, ma questi episodi diventano determinanti nel corso di un campionato, e quindi forse è il caso che Rocchi oltre a parlare alla stampa e a sbandierare, lo dicesse pure ai suoi, perché mi sa che l'abbiamo capito tutti, ma non l'hanno capito loro, un saluto. grazie a tutti, grazie a tutti.